Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz, ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè e Mercati Un saluto come sempre da Riccardo Zago Vi segnalo subito l'aggiornamento, se non lo avete ancora visto, di Trading con Ichimoku più Price Action Aggiornamento dedicato alle posizioni che abbiamo aperto o comunque agli strumenti finanziari che abbiamo analizzato giovedì scorso Quindi ieri ho fatto un piccolo aggiornamento e l'ho pubblicato qui sulla pagina Continuiamo, andiamo a vedere anche l'articolo di Gianmarco Wall Street, 4 azioni che guadagnano con lo smart working, molto interessante e da leggere Grazie come sempre a Gianmarco Bene, andiamo ora a vedere il calendario eventi di investire.biz Vi ricordo che quest'oggi c'è il trading live alle ore 16 E per oggi facciamo un regalo a tutti Quindi il trading live di oggi, 18 marzo 2020, è aperto a tutti Quindi in regalo Potete iscrivervi proprio qui Bene, inoltre vi ricordo che questa sera abbiamo il corso Opportunity 2020 Investire ai tempi del coronavirus, molto interessante, lo farò anch'io I relatori sono Luca e Pietro L'offerta è ancora valida per oggi a 250 euro Bene, andiamo subito sui grafici Riprendiamo un po' di argomenti visti ieri perché l'oil ha raggiunto il minimo Dove avevamo impostato l'ordine pendente Quindi siamo posizionati al rialzo Siamo posizionati al rialzo sul petrolio Comprare petrolio comunque a 26-27 dollari al barile Non è una brutta mossa a nostro avviso A mio avviso Quindi siamo posizionati al rialzo Ma attenzione, con una size molto molto piccola Proprio perché guardate qual è la volatilità delle ultime settimane Quindi molta attenzione con l'esposizione Bene, continuiamo Ne parleremo chiaramente oggi al trading live del petrolio Quindi vi aspetto come sempre numerosi Continuiamo a parlare di Tesla Perché ieri ha segnato un nuovo minimo importante In area 400 dollari per azione Attenzione perché stiamo raggiungendo dei livelli ottimi E lo vedremo anche al corso Smart Trading La seconda lezione Abbiamo dei supporti importanti Qui in area 330-328 Ma anche più in basso in area 300 dollari per azione Se però i prezzi dovessero ritrazzare Come abbiamo visto ieri in area 600 Allora lì si può valutare anche una nuova operazione al ribasso Bene, continuiamo Parliamo di S&P 500 Come abbiamo detto ieri Stiamo attendendo la chiusura al di sotto del livello di 2600 Che potrebbe portare a un cambio di trend nel medio-lungo termine Con un ribasso in chiusura weekly di oltre 20 punti percentuali Chiaramente sto parlando dai massimi Dai massimi storici in area 3400 Quindi attendiamo la chiusura settimanale sotto il livello di 2600 E poi chiaramente l'ultima conferma sarebbe la chiusura mensile Quindi 2600 punti Un livello molto importante da tenere sotto osservazione Per quanto riguarda il DAX Continuiamo a mantenere la nostra operazione short aperta da 10.450 Vi ricordo che il nostro target price lo troviamo in area 8.150 8.145 E però da lì si può anche lasciar correre la posizione E puntare anche più in basso Magari anche a 7.7500 punti Da lì non mi posizionerò Non ci posizioneremo al rialzo Perché chiaramente è un'operazione troppo rischiosa Almeno per il momento Andiamo a vedere l'Italy 40 Vi ricordate stavamo parlando di questi minimi importanti Minimi che stanno tenendo Minimi che a livello tecnico Il 14.735 sta tenendo Non ci posizioniamo Né al ribasso Né al rialzo Almeno per il momento E' chiaro che se i prezzi dovessero ritornare Per esempio in area 17.500 si può valutare uno short Di breve termine Andiamo a vedere il gold Che negli ultimi giorni ha una volatilità Veramente incredibile Ma continua a scendere Continua a scendere In questo momento siamo a 1.499 dollari Per oncia Anche qui la mia view rimane short Quindi se dovessimo ritrovare il gold in area 1.580 Valuterei nuove posizioni al ribasso Concludiamo la rubrica con Eurodollaro Che ieri non ha chiuso al di sotto del livello di 1.10 Che è questa zona qui Quindi il nostro long che abbiamo aperto Non lo chiudiamo Proprio perché il livello è stato rotto solo in intraday Ma alla fine della giornata recuperato E quindi il supporto non è stato rotto Manteniamo quindi le nostre posizioni al rialzo Con un obiettivo primario in area 1.14 1.15 Con questo ho concluso Abbiamo moltissimi altri argomenti da vedere Per questo vi ricordo che c'è il trading live alle ore 16 E oggi è aperto a tutti quanti Buona giornata Buon trading a tutti Buon trading a tutti